5 punti, 3 partite, un bottino che probabilmente in tanti avrebbero firmato prima della partita con il Catania, sembra davvero che la squadra abbia cambiato marzo. Sì, tra tre domeniche a questa parte stiamo facendo le buone gare, abbiamo raccolto anche dei punti importanti, abbiamo lasciato qualcosa per strada ma penso che poi alla fine vada anche bene così, però dobbiamo continuare su questa strada, con questo atteggiamento e con questa interpretazione della gara. Senti, ha fatto il gol del ex, ha detto che non è esultato, quanto ci avresti tenuto anche tu magari a fare un gol contro la Fiorentina che è stata una tua squadra e quanto sentivi anche la partita di Firenze che per te ovviamente come potrebbe essere col padelmo che è in Serie B una partita sicuramente diversa dalle altre. No, guarda, per me è una partita come le altre perché comunque adesso sono giocatore del Parma, non ho fatto lì dieci anni, ho fatto un anno e mezzo anche se ho dei bellissimi ricordi ma è importante perché gioco con il Parma ed era una sfida delicata e contro una grande squadra quindi era difficile per questo. Sono anche andato vicino al gol dopo cinque minuti, peccato perché era un bel tiro ma il portiere era parata e niente, torniamo a casa con la consapevolezza che se questo è l'atteggiamento messo in campo possiamo giocarcela con tutti. Un Mattia Cassani molto protagonista in questo Parma di inizio anno, hai giocato tutte le partite di tutelare a parte quella con l'Atalanta in cui eri squalificato, un nuovo ruolo per te, un ruolo però nel quale stai diventando sempre più sicuro, è vero che Luca Relli è primo nella classifica dei recuperi ma le statistiche della Serie A dicono che in realtà lunedì il migliore difensore in Fiorentina Parma è stato tuo almeno in quanto recuperi, è un ruolo che inizia a sentirti tuo. Sì, piano piano prendo domestichezze con il ruolo, è normale, c'è sempre da migliorare, si può sempre fare meglio però con l'andare del tempo cresce la convinzione che questo ruolo lo posso fare e con grande attenzione perché comunque in Serie A ci sono attaccanti fortissimi insieme all'aiuto di tutto il reparto posso fare delle buone gare. Adesso c'è la gara col Sassuolo, è forse la gara più delicata sin qui in campionato perché dopo c'è una sosta quindi è molto importante andare a riposo mettiamola così con un risultato positivo, è davvero la gara che può far rifare il definitivo stato di qualità anche in classifica per stare un attimino più tranquilli, insomma vincere vorrebbe dire andare a nove punti e anche stare in una posizione di classifica forse un po' più sicura. Sì sicuramente la gara interna col Sassuolo è importante soprattutto perché dovremo presentarci con lo stesso atteggiamento di queste ultime settimane allora poi con le nostre qualità ci verrà tutto più facile anche se loro sono una squadra che al di là di qualche intoppo iniziale hanno fatto bene a Napoli, hanno fatto bene in casa con la Lazio quindi hanno fatto vedere anche qualcosa di interessante quindi sicuramente dovremo interpretare la gara nel migliore dei modi con il giusto approccio, con il giusto atteggiamento e poi fare nostra la gara. L'ultima chiedo anche a te, lo chiesto anche a Bebenì, si gioca a pranzo, tu a che ora mangi e cosa mangi? Dato che si gioca alle 12.30, cambia qualcosa anche per voi a livello di alimentazione e di abitudini? Vi secca un po' giocare in questo orario con un po' inusuale oppure ormai ci avete fatto il caldo? Ormai ci abbiamo fatto un po' il caldo, ultimamente si gioca lunedì, martedì, mercoledì no perché si gioca la Champions, però si gioca ogni giorno, ogni orario quindi siamo abituati, si mangerà come al solito qualcosa di leggero, la pasta, un po' di bresaola, della crostata e basta, poi si va al campo sperando di vincere. Ciao ragazzi, ciao.